Bracciano ancora per voi i Sud Urban Grill Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina, noi siamo i Sud Urban Grill, Massimo e Michela e tra poco andrà in onda Grigliate Urbane, la rubrica dove si sperimenta l'eccellenza Proviamo ad unire piatti tradizionali con tecniche innovative alla brace utilizzando il nostro barbecue urbano insieme agli utensili presenti in tutte le nostre cucine Grigliate Urbane va in onda sui nostri canali social, Youtube e Instagram cliccando Sud Urban Grill e infine voglio ricordarvi il nostro sito internet www.grigliateurbane.com Siete curiosi di vedere cosa sperimenteremo oggi? Beh, mettetevi comodi e buona visione! BB Cooking ha creato 4 nuovi fantastici rub in una special edition e noi come sempre siamo pronti a sperimentarli per voi ovviamente sempre insieme al nostro partner, Antiche Garbonaie Oggi prepareremo una deliziosissima picagna in cottura diretta è un taglio di carne tipico della cucina brasiliana corrispondente al codone di manzo o punta di sottofesa ha una forma caratteristica triangolare e su uno dei due lati è presente uno strato di grasso spesso più o meno un centimetro dopo averla tagliata in fette di 3-4 centimetri la cospargiamo di olio extravergine di oliva e la massaggiamo per bene su entrambi i lati ed ecco il rub, il carbon rub della special edition presenta una grana non molto fine di colore completamente nero grazie alla presenza del carbone vegetale un ingrediente che ci incuriosisce molto è l'aglio nero di Voghera Top premiato e imbediato da tutto il mondo oltre ad altri ingredienti gustosi come il sale marino integrale il pimento, la cipolla e la salvia ciò che lega il tutto è il burro in polvere degli Alpi Svizzere che rende questo rub davvero particolare quindi lo distribuiamo uniformemente su tutte le fette e come sempre massaggiamo per bene per la cottura come da tradizione vogliamo usare degli spiedi quindi infilziamo le fette lasciando il grasso verso l'esterno e per una cottura più omogenea alterniamo il verso delle fette questa volta non utilizziamo il nostro barbecue urbano ma una griglia di tipo tradizionale come vedete abbiamo già preparato la brace e posizioniamo gli spiedi direttamente sulla griglia ovviamente per la brace utilizziamo il carbone naturale del nostro partner antiche carbonaie perché ci garantiscono sempre bassi consumi lunga durata ed elevatissimo potere calorifico inseriamo la nostra sonda nel pezzo più piccolo per evitare che si possa seccare rispetto ad altri più spessi e ci assicuriamo di restare nei 54 gradi ancora e dopo un paio di minuti per lato la nostra picagna è pronta dopo averla fatta riposare per 10 minuti la togliamo dagli spiedi e iniziamo ad affettarla le immagini parlano da sole è davvero uno spettacolo il barche da manuale croccante e scuro ovviamente merito del rub che abbiamo utilizzato che vi assicuriamo dona alla carne un gusto e un profumo ineguagliabile carbon rub della special edition di BB cooking davvero indovinato non vediamo l'ora di provare gli altri 3 ma nel frattempo buon appetito dai Sudurban Grill per l'ora di provare gli altri 2 Grazie a tutti Grazie a tutti